Quale direttore della Casa Italiana Zerini Marimò e come professore universitario, lei è un attento partecipe e osservatore della realtà giovanile qui a New York. Sappiamo che però i giovani sono poco interessati all'attività, agli eventi proposti alle associazioni regionali. Cosa si può fare in proposito, secondo lei? Sì, qua siamo in un osservatorio privilegiato per capire quello che sta succedendo nell'associazionismo, perché la Casa ha tutto un suo calendario di iniziative e per tradizione ospita gruppi, associazioni, istituzioni che chiedono di avere qua iniziative, eventi. In effetti c'è una certa latitanza di un pubblico giovanile quando ci sono iniziative proposte da associazioni regionali o cittadine. Non sono sicuro che la cosa giusta sia quella di rilanciare o di cercare di capire come attrarli. L'associazionismo deve essere al servizio di un'esigenza. Cioè queste associazioni sono nate storicamente per rispondere ad un'esigenza che c'era. Se i giovani non trovano più la risposta a quello che cercano in queste associazioni, è perché i loro bisogni si sono spostati in un'altra direzione. E devo dire che quando vogliamo vedere un pubblico più giovane, non è tanto un pubblico legato ad associazioni di tipo regionale, ma di tipo a volte professionale o politico o di altro tipo. Ed è proprio generazionale. Notiamo che le generazioni più anziane sono legate ancora a un modello appunto che è legato al paese d'origine, alla regione di provenienza. Mentre i giovani che frequentano la Casa Italiana di solito vengono qua sempre per anche incontri associativi, ma sono più legati alla loro professione, alla loro persuasione politica o ai loro interessi culturali. Qual è il rapporto della Casa Italiana con le associazioni regionali qui a New York e in particolare con quelle siciliane, se esiste? Come ho detto la Casa Italiana funziona anche oltre che come centro propulsore, anche come contenitore che dà ospitalità a diverse realtà. Naturalmente la comunità siciliana a New York, come sappiamo tutti, è molto attiva, molto grande, ricca di iniziative. Per cui è capitato in passato che abbiamo realizzato cose, iniziative, eventi, mostre, concerti insieme a gruppi siciliani. Per cui questa è una collaborazione che continua. Devo dire che le cose più interessanti sono state quelle che si sono verificate quando c'è stata una convergenza dalle due parti. Cioè una proposta dalla Sicilia che era stata recepita dal gruppo delle comunità, da alcune delle comunità, delle associazioni presenti qua sul territorio. Quando sono cose, non dico necessariamente siciliane, ma che vengono proposte dall'Italia e hanno una rilevanza locale, che non hanno un appoggio qua, difficilmente funzionano. Per cui il modello dovrebbe essere un po' quello. Proposte che vengono o dall'Italia o dalle associazioni locali, gestite insieme tra le due realtà delle due parti dell'oceano. Come si può rilanciare l'associazionismo in un mondo globalizzato che rafforza in qualche modo la realtà locale? E come può essere identificato internet? Quale strumento per ricollegare giovani alle realtà locali di origine? La rete, come sapevamo tutti, è una risorsa enorme. Come ho detto prima, non sono così sicuro che le associazioni dobbiamo tenerle in vita a tutti i costi, ma solo se rispondono a delle necessità e dei bisogni. Per quello che è la mia esperienza di insegnante, vivendo in contatto con gli studenti, è che questa dimensione della provenienza locale legata a un associazionismo della regione o del paese è necessariamente in declino. La vedo che funziona poco e vedo che i loro centri di aggregazione sono altri. I loro interessi ruotano attorno ad altri fattori che non sono quelli della provenienza geografica della loro famiglia. Per cui la rete funziona da strumento che li aiuta a rafforzare legami che già sentono. E per il momento io quello regionale non è un legame che vedo godere di grande interesse da parte dei nostri studenti, ad esempio. Grazie.